Moro era figlio di altri tempi e suggeriva sempre di tenersi stretta la propria epoca, non fare troppi salti di immaginazione e non confondere un'età politica con un'altra. Da questo punto di vista si può dire che lui sia straordinariamente inattuale. Le sue parole, il suo linguaggio, i suoi gesti, il suo modo di pensare la politica era tutt'altro da quello che noi vediamo oggi all'opera. E quindi mi viene da dire che se Moro fosse vivo oggi e nel pieno delle forze non è detto che si troverebbe al centro della disputa politica. Lei è stato il leader dei giovani democristiani e qual era il rapporto tra Moro e le giovani generazioni? Moro perdeva un sacco di tempo con noi, era attentissimo ai discorsi dei giovani, non parlava solo con i democristiani, parlava anche con i giovani della contestazione. Verso tutti aveva una grande curiosità. La cosa che mi ha sempre colpito molto di lui era il tempo che dedicava a persone sconosciute, non importanti, che però introducevano sempre nella sua riflessione un elemento di curiosità e di vivacità in più. Questa sera inizia con un omaggio a Monsignor Simoni, oggi sono due mesi dalla sua scomparsa, ecco perché questo video, questo omaggio? Monsignor Simoni per molti di noi, per quelli della mia generazione, ma anche per i più giovani è stato un riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, all'impegno dei cattolici in politica, è stato il segno del suo magistero. Quindi oltre al suo episcopato c'è un grande lascito e un moto di gratitudine di tanti di noi, quindi stasera lo ricordiamo, ma so che l'associazione immagina anche altre iniziative dedicate a lui, perché forse in questo tempo è giusto ricordare che la formazione all'impegno politico e sociale non è un optional. Grazie. 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 Grazie.